Differenziare è utile, differenziare conviene, differenziare fa bene a noi e all'ambiente, ma per farlo bisogna conoscere. Ad esempio la carta. Questi sono tutti materiali che abitualmente mettiamo nel bidone bianco. Riviste, quotidiani, cartelline, lettere vecchie, fogli, dibuste. Ma anche questi vanno nello stesso contenitore. Ad esempio contenitori di uova, se puliti, altrimenti vanno nell'organico. Il tetrapack, separando il tappino, che va nella plastica. Questi invece no. Ad esempio lo scottex sporco, che va nell'organico. Oppure la carta del salumiere, che va nel residuo. Come anche gli scontrini, anch'essi nel residuo. 70 chili di carta per risparmiare un albero. Pensate che per produrre un chilo di carta occorrono 440 litri d'acqua. Mentre per produrre un chilo di carta riciclata, meno di due litri. Differenziamoli bene. Conviene.